Folla di curiosi all'inaugurazione della sala giochi Dubai Palace sulla via Tiburtina a Roma. Per l'occasione sono stati invitati anche alcuni voti noti dello spettacolo. C'è Valeria Marini, Nina Moric insieme al nuovo fidanzato Matteo, la pro rompente ex oggi è fina a Cristina del Basso, ma anche la bellissima Cosima Coppola, arrivata insieme al collega Giulio.